Una bucchignana, ho poca batteria, si sarà in grotta dai, ho poca batteria, non l'ho caricata. Si mette a fare filmatini e poi i montaggi, però mandamene poi eh. Sì è. Siamo là perché uso l'olio cuore. Ah, lui usa l'olio cuore? L'olio cuore è fegato sano. Fegato sano? Sì ma mi lasci lei. Ah, se lo lavo io? Ah, mi scusi eh. Capisco che, mi raccomando non date noia alla vegetazione eh. Ma se lei non dà noia a me io... Aspetta, c'è le telecamere, c'è i gatti. Saluta di carro piccone. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ma stai scherzando, Mariano? Ma io poi che lavoro con le piazze. Ma stiamo scherzando? Oh, ma... Mi sei brava che non c'è. Sì, no, è questa qui, è questa qui. Ora ci siamo. Ecco, ecco anche il falla, vedi? Ma ci resta un pochettino qua, qua. Ma è qui? Sì, è questa qui. Adesso ce l'ha visto? No, 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 non l'avete vista fino a fondo. No, l'abbiamo vista fino a fondo. L'abbiamo vista fino a fondo. No, 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 no. Ah, bisogna ritorna anche. Aspettiamo, io. Allora, fai culo, vai. Pensate troppo, eh? Sì, sì. Noi abbiamo già visto un pochetto. Mi siamo passate da un pochetto. Guarda, venite, venite. Occhio qua. Occhio qua. Occhio. Guarda un po' il soffitto. Bello, l'ha visto? L'ha visto bello? Tanta roba. L'ha visto? Questo è tutto calcare. Ma se vuole andare a fare una piazza, lo sai? Guarda qui com'è. Bello, eh? Tutto basso. Qui anche. Bene. Qui è bello. Guarda come è bello. Ora, queste qui, quando lo dico anche a loro, queste qui, vedete questi cristallini qui? Sì. Si chiamano aragoniti. Vi spiego perché. Cerini. Dai, si scambi in camera. Vai. Sono mezza schede, se non è. Sì. Sì. Sperma così, eh? Sperma così, eh? Sperma così, eh? Sperma così, eh? Sperma. Sperma. Sperma così, eh? Guarda che c'è qui sotto, eh? Guarda, dei microfisolidici. questo è rame cos'è Mariano? dovrebbe essere rame sicuramente è diventato un rame sì con le ossidazioni vedi qua è già azzurrino è già azzurrino ma non è come ora faccio questa traccia bianca vediamo c'è bisogno di te guarda me non toccate questa non toccate questo spaghetto ci sono spaghetti a carbonara sì ma non toccatelo per poten gli spaghetti ecco gli spaghetti alla carbonara quanto ci massimo per diventare così? dipende dalla quantità di minerali che l'acqua trasporta attraverso le rocce qui ci sono le cani di rinchi mi raccomando non toccate a solare che ci sono tra i miei questi spaggianti anche qui se non è venuto in un'unica è un'unica è un'unica è un'unica è un'unica è un'unica perché ci vengono a nascondersi non toccate il pannella che non fa staggianto è un'unica ma perché ci sono la serpente? che ci sono la persona? che si muove? si 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 ma non è vero no ma quando ha andato a andare a vedere tanto? io ci sono stato io non ho vorreste mangiare? salve un attimo che si... si 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 mangia a livello sono le mie liste delle consigli io piace però non si voleva filmare andiamo qui no si è fatto quello dai andiamo si 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 Grazie Mariano, come al solito.